Non solo musica rock ma anche jam session, gastronomia, gite in bicicletta, escursioni e tanto altro ancora. E il programma della 17esima edizione di Rocca Musica, una rassegna di band emergenti, non solo molisane, che si esibiranno a partire da domani sera a Rocca Mandolfi, grazie all'impegno dell'associazione Strimpelli e Urla e al Proloco. Inizio della manifestazione venerdì pomeriggio alle 16 con l'apertura degli stand. Il totale delle band che suoneranno quest'anno a Rocca e Musica è un po' quello degli altri anni, nel senso almeno 12 band saliranno sul palco di Rocca e Musica, più quelle che poi si avvicineranno sul palchetto destinato alle jam session, però a tarda notte. Sul palco principale saliranno 12 band divise in tre giornate. Musica un po' di tutti i generi, non deve ingannare il nome Rocca in musica, in quanto siamo aperti ovviamente a qualsiasi contaminazione musicale, prevalentemente magari nell'occasione rock, però non disdegniamo niente. Le band vengono dal Molise e anche da fuori regione. Predileggiamo quando è possibile dei lavori inediti, ma c'è anche qualche cover band, band anche di buon livello, ma ci piace lasciare spazio anche a band che non hanno molta esperienza, ma che trovano magari nel nostro palco la possibilità di suonare, di cominciare a suonare davanti a un pubblico importante. Quindi venerdì, sabato e domenica, qual è il programma? Come suoneranno le band e alla fine che cosa ci sarà? Allora, il programma prevede una serie di eventi nell'evento, nel senso che la musica sarà una delle cose che caratterizzerà Rocca e Musica, ma non solo. Ad esempio abbiamo una collaborazione con un'associazione di Mundan Bikers di Boiano che per la domenica organizza un'escursione sul Matese per poi tornare a mangiare nel parco della musica di Rocca Mandolfi. Ci saranno delle mostre, delle fotogalleri, ci saranno dei writers che si dedicheranno all'arte di dipingere sui muri e su spazi ovviamente dove è possibile farlo. E poi ovviamente tanta buona musica, tanta buona cucina, la possibilità di pernottare presso il nostro campeggio e presso la nostra casa dell'ospite, insomma all'insegna dell'accoglienza. Qual è l'ospite di Maggior Richiamo, la band di Maggior Richiamo? Ce ne sono diverse, ci sono gli Zippo che sono di Pescara che suoneranno il venerdì insieme a altre quattro band, ma loro sono la band più di riferimento, che vengono da Pescara, fanno un bel rock abbastanza muscoloso. Poi ci sono i Radio Scilla che invece sono una band molisana che ha vinto l'Arezzo Wave, le selezioni molisane, che quest'anno ci rappresenterà a livello nazionale a Arezzo. E poi ci sono i Cyborg che invece sono una band che è già importante, che ha aperto anche il concerto di Bruce Springsteen l'anno scorso a Roma. Grazie. Grazie. Grazie.